ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi sarà un video per la rubrica crea lando allora siccome il mio portapenne ormai poverino non ne può più ho deciso di farmi un portapenne io stessa allora per fare questo portapenne usate la mano faccio dei pezzi di plastica per fare questo portapenne ci servirà due pezzi di cartoncino che io ho tagliato veramente malissimo ma non fa niente tanto li uniremo così con la colla a caldo poi ci serviranno dei rotoli di carta igienica vuoti così oppure anche quelli grandi e poi ritagliati io praticamente ho fatto che per questi due ho tagliato uno di quelli grandi a metà poi ho usato quelli normali e poi un altro di quelli grandi l'ho tagliato a parti più piccoline ancora potete farli come potete usarli come volete non non ha importanza questo poi servirà della colla vinilica che io già ho mischiato qui con l'acqua poi si servirà un pennello per poter mescolare la colla infatti lo faccio adesso prima che la colla si solidifichi un po ok mischiamola con la colla vinilica con l'acqua poi come vi dicevo ci servirà la colla a caldo e poi ci servirà un rotolo di carta igienico oppure di carta la cucina quella bianca importante che è della carta assorbente tipo io userò magari questi così e tazzolettini non ha importanza usate quello che volete e niente cominciamo per prima cosa dovremo incollare tutti i pezzi come ci piacciono come vi piacciono a voi come preferite nel su questo cartoncino prima ingolliamo il cartoncino però aspettate un attimo perché la colla mi cola io metto la colla qui così in questo modo un consiglio che vi do a tutti non comprate mai la colla a caldo dai cinesi come ho fatto io una volta perché mi è capitato che la colla più che colla a caldo sembrava plastica ed è stato orribile perché è impossibile da usare è durissima adesso incolliamo i due pezzi di carta i due pezzi di cartoncino voglio dire questo cartone che io ho preso da una scatola che ho trovato adesso incolliamo tutti i nostri come si chiamano i nostri come li possiamo chiamare i nostri rotoli di carta igienica chiamiamoli così sul sul piano che abbiamo appena un po' un po' un po' un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo incollato tutto insieme, ho fatto come piaceva a me giustamente, poi voi ovviamente fate come piace a voi. Adesso facciamo asciugare un po' la colla a caldo. Nel frattempo prendiamo la nostra colla vinilica con l'acqua, mi è falluto pure il pennello. Aspettate un attimo che devo spenderla con la colla a caldo. Ok, prendiamo la nostra colla vinilica con l'acqua, prendiamo la carta, ce ne vorrà un bel po', ve lo dico da adesso. Dobbiamo tagliarla in pezzettini piccolini così tipo. Non so se vi ricordate Giovanni Mucciaccia, dobbiamo incollare la carta tipo così, mettiamo la colla, la carta. In questa maniera, dobbiamo incollare, forse ci vorrà un pochettino di acqua in più. E dobbiamo riempire tutto completamente con carta e colla vinilica. Io dovrò mettere forse un altro po' di acqua nella colla perché è troppo dura. Prendo l'acqua e la metto. Dovrà essere abbastanza liquida perché il lavoro è lungo. Ecco qui, sì adesso va meglio, vedete. Ok, adesso riempirò tutto con carta e colla e poi ci rivediamo il lavoro finito. A dopo. Ecco qui, ho appena finito di rivestirlo tutto con la carta e la colla. Ci ho messo circa un'oretta, devo stare sincera, ci ho voluto moltissimo. Praticamente l'ho rivestito anche, vi faccio vedere, per metà all'interno pure. Questo piccolo... no beh. Questo piccolo qui l'ho riempito tutto perché mi sembrava fragilino. E niente, adesso dobbiamo aspettare un paio di giorni, credo, che si deve asciugare. Credo ci vorrà un 4-5 giorni, così. E poi ci rivediamo. Vi dirò di preciso poi quanto giorni ci sono voluti. A dopo. Guardate, finalmente è completamente asciutto. Se vedete adesso è molto più duro. E adesso preparo tutto e iniziamo a dipingerlo. Vedete che è duro? Adesso sarà impossibile rompere la carta, il jump. Vedete? Beh, questo l'ho imparato da... Da mucciaggia su Art Attack, quando ero più piccola. E adoravo le sue creazioni e adesso ho provato anche a fare una creazione al suo stile. E niente, preparo tutto quello che si servirà per dipingere. E ci rivediamo dopo. Ecco qui, ho preparato tutto. Userò i due colori, che sono il verde metallizzato e il blu metallizzato. E poi qua c'è il pennello e l'acqua. Niente, vi lascio al video che lo farò velocizzato. Adesso finirò di dipingerlo tutto così nello stesso modo e ci rivediamo quando sarà tutto completato. Eccolo qui, adesso è tutto dipinto. Adesso aspettiamo 24 ore, 12 ore... Dalle 12 alle 24 ore, per essere sicuri che sia asciutto al 100%. E poi ci rivediamo qui per decorarlo meglio. A dopo! Allora, adesso è tutto completo. Guardate, l'ho pure riempito, è troppo bello. Contiene un sacco di cose. Ancora qui c'è spazio di mettere altro. Cosa che penso che farò presto. E niente, vorrevo un pochettino decorarlo. Ho qui preparato infatti la colla a caldo. Ho qui qualche perlina. Vorrei attaccare qualche piccolo strassino così. Spero che questa idea vi piaccia. Ops! Mi stava cadendo la fotocamera. Niente, guardate i colori come sono belli. Cioè, io sono rimasta veramente scioccata. Do come è venuto perché non me lo aspettavo così bello. Deve essere ringera. Perché dire una bugia. Non mi aspettavo questo colore così vivace. E niente, sto aspettando che la colla a caldo si riscaldi. E cominciamo a decorarlo. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'abbiamo pure decorato come vedete qui ho messo tutte queste perle, mezze perle più che altro e che sono con l'effetto cangiante, effetto sirena, chiamatelo come vi pare. C'è qualche filamento di colla a caldo, c'è stato un momento in cui non vedrete niente, il mio cellulare come sempre, perché mi sono ostionata un po' il dito qui, mi sono bruciata. Ma non fa niente, adesso passa. E niente, spero che questo mio progetto vi sia piaciuto, sto cercando di togliere tutti i residui della colla a caldo, ma credo che non ci riuscirò mai. Ah, ecco, guardate, eccolo qua. Dai, togliti, ecco. E niente, spero che questo mio progetto vi sia piaciuto, spero che farete anche voi la mia idea. Ah, e se lo ricreate, mi farebbe tantissimo piacere se mi taggasse su Instagram, così potrò vedere il vostro lavoro. Taggatemi, scrivendo ovviamente le creazioni di Annalisa, hashtag le creazioni di Annalisa, oppure mi taggate e basta. E niente, noi ci rivediamo nel prossimo video. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne avete pensato di questo progetto. Questo penso che sia il mio primo DIY. Comunque, mi è piaciuto tanto realizzarlo, perché poi è una cosa utile, come potete vedere. Guardate quante penne ci ho infilato dentro. E va bene, noi ci rivediamo nel prossimo video e vi mando un grandissimo bacio. Ciao!